Il microfono! Il microfono ragazzi! Forza! Forza Mike! Ce la puoi fare! Il microfono! Hai 30 anni Mike! Forza! Buonasera! Non ce la farò, non ce la farò. Non sopravviverò a lungo. Perfetto! Allora... Ragazzi, ready to go! Possiamo partire quasi subito, perché in realtà purtroppo ho una buona e cattiva notizia. Volete sapere prima la buona o la cattiva? Sono arrivate prima le richieste di quella cattiva, quindi visto che non è un vero e proprio sondaggio andiamo con la cattiva. Chi prima arriva è meglio alloggiato. Perdonate la tosse, non so perché. Ce l'ho da un paio di settimane, però sta facendola noiosa stasera. Esatto, hanno già indovinato tra l'altro alcuni di voi. Purtroppo niente talk domenica e neanche il lunedì ci sarà la live, quindi domenica e lunedì sarò purtroppo assente. Ripeteremo, cioè recupereremo tutto domenica prossima. Ossia il 10 marzo. Mi dispiace, però la buona notizia è il perché. È sotto imbargo. Non posso dirvi il perché, ma se è sotto imbargo è chiaramente lavoro. Quindi ne gioveremo tutti. Specialmente voi, perché vi potrò portare qualcosa di più completo. Allora, siamo pronti, 21 e 30. Avete tutti gli indizi necessari per capire. Non i dettagli, ma la cosa vaga. È perfettamente chiara. Quindi, che dite? Resident Evil 2. Possiamo andare avanti. Analizzare abbiamo Riccardo, milady. Stabilimento. Abbiamo incredibilmente un salvataggio su una parte di gioco lineare. Non abbiamo molti dubbi sul da farsi, no? Allora. Caffè con Kojima? Not yet. Non ancora. Allora. Guardala, guardala. Vispissima. E infatti, come mi viene fatto notare nei commenti, ti stringe la mano se ti avvicini a lei. Che cosa carina. Però non ti tiene la mano nello spostamento per non rallentarti. Anche se potrebbe correre anche lei più veloce di noi, probabilmente. Grazie, Luke. Grazie di cuore. Allora. Vediamo un po'. Avevo ricevuto un consiglio che non voglio ignorare. Prima della fine della serata scorsa. Mi avevate consigliato di portare con me la manopola o altro. Mi avevate consigliato la manopola, giusto? Buonasera, ragazzi. Benvenuti tutti coloro che si stanno aggiungendo. No, non la manopola. Perché io posso andare avanti, come al solito, in questa semi-blind di ricordo, di riscoperta con voi, in questo contenuto di progetto, no? Di quello che è il nostro Resident Evil 2 originale. Però, già che avevo ricevuto un consiglio, prima di salutarci, per non magari fare un backtracking extra, benvenga. Solo che non vedo... Allora... Me la gestisco senza il consiglio, quindi, magari chi mi aveva dato quell'input non è presente stasera. Io direi... Abbiamo la balestra per le orde, per quanto, ovviamente, le granate esplosive siano leggermente... Al napalm. Siano leggermente più cruciali, però... Io direi che così siamo preparatissimi a qualunque evenienza. Tutto al più... Che leggo in chat un po' di preoccupazione su quello che mi aspetta. Visto che il Claire A, io me la ricordo, quasi zero. Molto meno di Leon. Andiamo. Grazie, Clezzon. Allora. Pronti? Pannello di controllo della macchina. Ma in sostanza, Mike, senti una sensazione positiva o negativa giocando all'originale mentre vivi l'esperienza del remake? Beh, il remake l'ho completato molto tempo fa, ma l'esperienza che sto rivivendo appunto con l'originale è estremamente positiva. È meravigliosa. Oltre a essere particolarmente romantica, è anche letteralmente concretamente bella. Andiamo. Vi seguo, eh? Ma siamo arrivati... Qui c'è una boss fight con Leon, giusto? E quindi immagino anche con Claire. Sicuramente il Taser lo useremo. C'è una fessura per una chiave. Ok. Questo no, perché l'armeria è una cosa extra. La chiave sarà sicuramente nei dintorni. Io vi sto leggendo perché so che probabilmente stanno arrivando più persone e ci saranno domande o magari saluti e così via. Quindi sto dando più attenzione alla ciata del solito, ma... Io qua ricordo che... È dove poi io presumevo nel remake ci sarebbe stato qualcosa. Infatti abbiamo avuto un'originale interruzione da parte di William. Quindi immagino che il parassida fosse soltanto l'inizio. Dovremmo schivare qualche manata, immagino. C'è incita la lettera D. Non ancora. È infatti Inuya Shatake, ma credimi non l'hanno fatto, vedrai. Fida di di me. Bellissimo. Un suono molto analogico. Sì, mi piacerebbe molto potervi portare tutto a Animusche. Non solo trilogia. Non solo interruzione del filo di più di più del mondo. È capace di un'inunico. Un'unico. 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 La sua head sta faiando. Ho bisogno di riuscire prima di popare gli embrioli. Ah, devo uscire? Quindi c'è la boss fight quella... No, infatti. Ah, mi fanno un... Ma scusa, c'era scritto che la luce vietava l'accesso all'esterno. Quindi Claire si è fatta chiudere fuori, fondamentalmente. Quindi all'interno. Ok. Sono abbastanza gasato, ma non in realtà quanto lo sarò in futuro. Ve ne parlerò. Ehi. Sì, quanto lo ricordo. E quanto è reso meravigliosamente nel remake. Che figata. Voglio vederlo quanto più possibile. No! L'inquadratura! Guardate che meraviglia. Oh, Mike. Oh, doppio colpo! Mazza. Resistente. Che... Bello che sei. Quanto pollo sei tu invece, Mike. Questa non fosse una presa. È bellissimo. Perdonate la mia goffaggine. I suoni, la musica. La nostalgia mi stava un attimino intontendo. Io per un attimo ho pensato al Nemesis. Quando mi ha cercato di prendere, invece mi ha solo stordito. Che spettacolo. Che bello che è. Che bello che è. Con la mira automatica sarebbe molto più semplice, ma non voglio utilizzarla. La paura del controllo tank completo, anche con la mira manuale, fa parte del gioco, secondo me. Mancato? Ah, la schivata di Resident Evil 3. Quanto aiuterebbe qui? Oh, oh. Finite le munizioni. Morirò. Non sono stato attento. E non ho schivato quasi un colpo. Bisogna essere zero... Cioè, assolutamente non avidi in questo tipo di scontre. Io direi... Di vedere la kill cam. Facciamoci uccidere. Morte unica. Tra l'altro, perfettamente interpretata in un modo... Con un avversario diverso in Resident Evil. È figo. Però vedete, in questi casi, i controlli di gioco sono estremamente anziani. Nel senso che tu o utilizzi una mira automatica, oppure sai molto bene quali input dare per colpire il più possibile nel minor tempo possibile. Altrimenti ti ritrovi condannato a fare un hit and run estremamente limitato, no? Allora... Sì, prenderò anche la mappa, giustamente. Avevo letto i commenti, ma... A volte, quando dimentico qualcosa, mi sento in colpa del... Del... No. Lo proveremo con i poveri zombie, questo. Mi sento in colpa nel... Recuperarla, perché l'ho persa, no? Ok. Ok, ora con un po' di attenzione non dovremmo avere troppi problemi. Mal che vada, ma... Francamente, farsi colpire... È molto facile in uno scontro come questo, perché hai poco controllo del personaggio, insomma, hai poche chance di poter sfuggirgli. Però, contemporaneamente, se non si è minimamente avidi e si sta molto attenti, è quasi difficile che accada. Allora... Però io ho un dubbio di quello che sta succedendo qui, e questo dubbio non voglio che lo risolviate voi in chat, quindi non farò domande. Sarebbe un... Sono quasi certo di quello che sta per succedere, e vi assicuro che per me sarebbe una sorpresa... Cioè, una sorpresa da adulto, ecco. Una sorpresa da... Da giocatore che ritocca... Che riprende in mano. Resident Evil 2... Da quando lo giocavo, la giocò praticamente la prima volta. Sherry! Esatto, Stefano. Se Sherry, purtroppo, facesse sviluppare completamente l'embrione al suo interno, il parassita diventerebbe un G completo. Ok, faccio la domanda senza che mi spoileriate. Ma stiamo scendendo? È possibile che... Cioè, è veramente possibile che siamo già arrivati al laboratorio? Ma... Il laboratorio dell'ombrella, così presto? Cioè, ho dei ricordi. Da piccolo, ovviamente, una partita mi durava sei ore, cinque ore. Una run completa. E quindi... Sono perplesso. Cioè, è possibile che... Siamo già al laboratorio? Visto Don Cape? Che ti avevo detto io? Ah ah! Ah ah! Ah ah! Ah ah! Ah ah ah! Te l'ho detto, non dovevo fare una domanda. Tranquilli, ragazzi. È inutile non fare troppo l'umore. Claire, il mio stomaco... Il mio stomaco è dolore. Hai ragione, Perseo. Probabilmente in questa run semi-blind, diciamo, di ricordo, avrò giocato tutte quelle cinque ore. Però da piccolo sono cinque ore molto più dilatate. Mettiamola così, probabilmente. Perché... Comunque nei miei ricordi... Lo sono. Forse perché non erano cinque ore, magari erano otto. Forse le altre run erano da cinque o quattro. Perché non ho mai fatto speedrun da piccino, ovviamente. Su Resident Evil. Su altri giochi ha voglia. Questa cosa è fantastica nel remake è... Con il viso di Birkin sotto. Eh, non c'è neanche la possibilità di voltarsi di 180 gradi. Devi proprio colpirlo a distanza, anza, anza. Puoi girarti e scappare. Oh, addirittura tre granate perché si è un po' incastrato, avete visto? Ah! Sette colpi, non li ho contati per la tensione. No, Claire, no! Il controllo! Avete visto che ha anche gli occhi sulle spalle. Un occhio sulla spalla. Allora, sono queste più per le orde, in realtà. Ah, vedo che l'intelligenza artificiale... Che sta facendo? E' durissimo! Gli sto lanciando addosso un arsenale veramente impegnativo o sbaglio? Lo sto semi mancando però adesso, eh? Questa cosa non la ricordavo! Avete visto quanto cammina lento? Non mi... Da bambino non ricordavo che rallentava in base ai danni. Che figata! Riesce a percepire l'abbassamento degli HP attraverso i danni che gli fai. Guardatelo! Guardate l'occhio, guardate l'occhio! Stupendo! Quanto vorrei poterlo vedere in prima persona! Magnifico! Veramente magnifico! Bello, bello, bello! E' come Sif! Grazie, Ensk! Anche del messaggio, è importante! Claire non si fa una domanda, è pur sempre una Redfield. Poveria... 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 Claire? Oh... 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 Le ha dato la giacca... Le ha dato la giacca... E' come Sifo... 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 Qualcosa mi diceva che sarebbe successo Allora Ok Vediamo un po' proviamo questo Gigante Ah beh certo no no Chiaramente le Ivy le ricordo molto bene Non è un caso che ho preso le granate al Napalm Allora Vediamo un po' Questi sono il classico tipo di arma Che mi preoccupa moltissimo 3 metri Andiamo La musica ambientale I rumori metallici sul terreno Metallici Sono diversi rispetto alla stazione di polizia Eccoli quelli metallici Oh santo cielo Ecco diciamo che il laboratorio per me E' una delle cose più preziose Dei ricordi che ho da bambino Come videogiocatore Perché mi ha sempre messo un'atmosfera Non di angoscia Ma di pura bellezza Mi piaceva da morire Vi ricordate quando nel remake Ho fatto il verso Alla provetta Perché ricordavo a memoria I movimenti che avrebbe fatto E che sono stati riprodotti nel remake I colori I percorsi giusti I percorsi sbagliati Rosso, blu Sono molto curioso di sapere Come andrà con Sherry Perché Claire Ehi L'avrò giocato forse una volta La piccola e basta La sala cinesca è ben chiusa E' l'interruttore di una sala cinesca Vuoi premerla? Nessuna risposta Non arriva corrente Schede di accesso Capite quanto il sound design E' centrale Tanto centrale Qui potrei costruire Un nuovo fusibile per principale Se avessi un porta fusibile Che meraviglia Ok Posso riattivare la corrente nel laboratorio Va bene Però il fusibile Devo metterlo Non qui Probabilmente Al centro La bellezza Maledizione La bellezza Di queste cose La cura Per le animazioni Io lo so che può essere banale Evidenziare qualcosa come questo Ma Esattamente come oggi Molte cose sono superflue Non vengono più fatte Anche all'epoca Non venivano fatte E non erano Appunto obbligatorie Per avere un successo importante C'è una Ivy dietro? Non ancora In questa stanza ci saranno delle Ivy E vedrete che sono molto diversi Dai regenerator vegetali All'interno del remake Per accedere Devono esserci almeno due membri Dello staff Inizio verifica Impronti digitali Puoi procedere? No Ok Esattamente Kaival Esattamente Sì È riconoscibile Proprio dal vetro Ah devo farlo? È distinto Quando ho sentito parlare Di due membri Pensavo di dover Trovare un oggetto Che mi aiutasse A perlomeno simularlo Attiva Vi assicuro che Non so Probabilmente ci sarei potuto Arrivare dopo Ma solo quando Avessi capito che era Non importante O meglio Obbligatorio per la run Che forte Praticamente Per chi non legge la chat Mi hanno consigliato Il fatto Che se io lo faccio adesso Quando arriverò con Leon Potrò Utilizzare La seconda impronta Ossia la sua Non ci avrei pensato In questo momento Perché pensavo ancora Di dover trovare La strada giusta Per avanzare Assente in archivio Beh Non è stato molto utile Almeno fino ad ora Magari Quando avrò la scheda Non lo so È vero La stanza della falena Dove registrarsi Cosa mi state ricordando Grazie Tenko Non conosco la citazione Però Frammenti di un insegnamento Sconosciuto Non la ricordo City Resident Evil West Area Ah eccola Eccole Quanta pa Quanta paura Fanno Quanta paura Ehi Non ti avvelenare Avete capito Quanto possono essere Pericolosi In Resident Evil Una cosa del genere Guardate che La prospettiva La prospettiva Bruciate Ah è vivo Questa cosa è da film Bruciate Le mancate Cioè È tutto così Poco casuale È tutto così Poco casuale Avere Le ivy Che diventano silhouette Nere È una scusa estetica Meravigliosa Per fare un effetto Bruciato Che sia Bello da vedere E non Texture sporca È veramente figo Beh più che Molboro Sono Ochu E infatti Queste sono Le piante 43 Nel remake Ricordo Questo orrore Ma Sembra che abbia sparso Dell'olio ovunque La domanda è Con l'olio Potrò accendere Potrò accenderlo Con l'accendino Ma vi è una programmazione Che mi permette Di utilizzare La granata incendiaria Per farlo Proviamo 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 Esatto Sì Volentieri Inquadratura Perfetto Sei pronta? Non credo di aver Non credo di aver Acceso L'olio Ho proprio Bruciato direttamente Lei Molto carino Allora Grazie Tenko Ah di nuovo È un libro Che ti consiglio Vivamente Non te ne pentirai Ti ringrazio Lo leggerò Meglio È un parolone Me lo segno Registrazione Verranno automaticamente Questa via Questa via Di raggiungere Di raggiungere Il punto di sosta Oltre i confini Della città È severamente Vietato Rivelare informazioni Sulla ricerca Condotta in questa struttura Nonché sulla sua esistenza Poiché la priorità Principale Di mantenere la ricerca Totalmente segreta L'accesso All'uscita Potrebbe essere Vitato In alcune circostanze Particolari Circostanze Che vi Avrebbero Comunque Volentieri Certamente Fottuto Ok Abbiamo fatto abbastanza Direi Esatto Un modo gentile Di dire Potremmo lasciarvi Esplodere Esatto Ehi Antipatica Ancora qui Vi moltiplicate Ehi Ragazzi Voi non avete idea Della soddisfazione Che mi sta dando Ucciderle Cioè io vi garantisco Che non è Esattamente Il modo in cui Si gioca La prima volta Resident Evil Perlomeno Non da parte mia Sono sempre stato Quello che Oh mamma mia Oh mamma mia Devo tenere tutto Per tutto Mamma mia E quindi Ucciderle Giocare da Sgargiasso adulto È Bellissimo Stana favola Allarme Ai Allarme Nino 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 Sì Voglio scendere La scala Questa stanza Ecco Questa Inquadratura Meravigliosa È presente Anche nel remake Solo che È molto più Nascosta Quale buco RIP buco C'era Un oggetto Da raccogliere In una fessura Qualcosa del genere E io pensavo che Ok Perdonatemi È abbastanza Naturale che avrei fatto Il giro dopo Ma Presumevo che Un po' Alla Resinativo L'originale Eccetera Rimuovere la pianta Lì avrebbe aiutato Ad accedere A un'altra area Non che Fosse quello L'accesso Farò sì Di Di tornare Assolutamente Uno zombie Forse è arrivato Il momento Di provare Il taser Dinanzi a un ricercatore Che bei suona Ah no Questo è un Ah questo è un Leaker Questo è un Leaker Ok il taser Non è continuativo Sono Botte di energia Che non puoi Questo è un Black leaker È il leaker Shiny È il leaker G rank Non avrei mai potuto Sognare di vederli Così Hanno denti No No Allora La domanda è Fanno danno ad aria Posso danneggiare entrambi? Secondo me no It's time to Backtrack Calmissimi Dio Sono d'accordo con Stefano In questo Non aver inserito Questi nuovi Leaker All'interno Di Resident Evil 2 Rimacca È un peccato Davvero Però Sarebbero stati dovuti Giustificare In maniera un po' Più complessa La domanda è Saranno veramente morte Così senza essere bruciate? È caduto qualcosa Ah tra l'altro Vedete Lo avrei notato Nella mappa Il fatto che C'è quel bel giallo Lì Ok Ah è qui la balena Oh fuck Ah è qui la balena 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 Via! Ora! Ora o mai più! Ora o mai più! Claire! Claire, fuggi! Ok Ecco Ecco che qui In realtà in maniera molto Fica, secondo me Cambia completamente il ritmo di gioco Perché qui Hai Un tipo di avversari Di difficoltà, room by room Che nella stazione di polizia Non è nemmeno Avvicinabile ai fatti E questo rende anche per un giocatore A vezzo La cosa abbastanza tesa È arrivato il momento Di prendere Zombie scarnificati Anche questi sono stati rimossi nel remake Forse per non essere Causa di Controversi Spero di no No, volevo Cazzo ma Ehi Fanno danno ad aria Ragazzi Fanno danno ad aria Non è come pensavate Ah, non posso mirare Verso l'alto Oh Tre colpi è tanti Però hanno una forma Diciamo di tracking In realtà questi zombie ci sono Ma solo nel DLC gratuito Interessante che siano stati aggiunti Ancora avrete intuito Che non ho fatto la blind del DLC Allora Vediamo un po' dopo Tutti questi colpi Quante munizioni abbiamo 20% Non è male È abbastanza Interessante Però A questo punto Io direi di essere Un pochino più Incazzati Ok Allora Non abbiamo Un nastro qui Come al solito Esagerati Non dovete metterne sempre così tanti Usi il 5% a colpo Ok Così possiamo attaccare Le creature Senza l'ansia Di dover Ricaricare la partita Per una sciocchezza Potremmo essere molto più Aggressivi E ovviamente Metterò via i dardi Perché No Non metterò via i dardi Prenderò la balestra Perché in ordine di zombie Ignuti Scarnificati Sono molto più utili Di qualunque altra cosa Che non sia Ho molte granate però Meglio avere spazio in inventario Ho molte granate in effetti Ok Oh Effettivamente siamo nell'ultima area Prendo volentieri la chiave Potremmo essere vicini All'armeria in cui So So Cosa troverò Questo lo ricordo Lo feci Lo feci Come con Claire Non vedo l'ora Ok Bellissimo Che comunque il lanciagranate abbia Questo Caricatore infinito Allora Non è una cattiva idea Lasciare la pistola E prendere la balestra In effetti È qualcosa su cui Riflettere in futuro Però per ora Non facciamo troppo Gli strateghi perfetti Perché stiamo comunque Rivivendo Resident Evil 2 In maniera un po' più Naturale Che non tecnica Vero Gian Fico Allora Io credo che La granata Incendiaria Sia Non proprio l'idea Perfetta Per quello che dovremmo fare Però No Zonnox Faremo assolutamente Silent Hill Ma non saranno alternati Ok Vediamo un po' Eh ma per quello Preferisco essere un po' meno Efficiente Ma più Lo sapevo No bastardo Avete visto L'ultima granata Non li ha uccisi entrambi Ci sono creature Come queste Avete visto che mi ha ucciso Molto presto Tra l'altro Fanno veramente Più male Di quanto avremmo sospettato Ho fatto bene A essere previdente È un pochino vigliacco Perché Ero su attenzione Per carità Ma sono passati quindi Con due graffi A pericolo E quindi La leccata mortale Mi ha Mi ha finito Mi ha finito Il controller è sempre più rotto Dovrò utilizzare un po' di Magico Attack Quello che ha costato Vabbè Ha fatto il suo percorso Magari ha vissuto una vita difficile Allora A questo punto Io direi Che possiamo fare Una cosa Prima evitata Perfetto Perfetto Ok Ok Io mi ricordo Di aver visto Qualche mese fa Una speedrun Di Resident Evil 2 Knife only E come al solito È bellissimo Vedere come alcuni Movimenti Incastrano le intelligenze artificiali Grazie Grazie Don Ma non c'è bisogno Di esagerare Siamo abbastanza Siamo abbastanza Filled Filled up Allora Una volta che ci hanno Dato quei due graffi Che potremmo non poter evitare Dipende Dipende da quando Ho deciso di sparare Agiamo La cura Iniziale Fate qualche passo in avanti 3 2 1 Stavolta La way Ha fatto il suo effetto Siamo ancora su Attenzione Posso ancora subire Un qualunque danno Prima di curarmi Bellissimo Però l'effetto Di L'interno è stato Costrutto dalla pianta Quindi questo Baule Questo armadio Surprise Surprise Chissà perché Tenevate granate All'interno di un laboratorio Eh signori No Ok Non credo Ho sbagliato a uscire Perché non volevo Stavo cercando altri oggetti Quindi Accetterò un consiglio Se qualcuno mi dice Se ho dimenticato qualcosa All'interno Presumendo Di non averlo fatto Let's go Eh Teniamo un sacco Di domande Così tanto esterne Ragazzi Per il talk show Del 10 Se la trovo Sì Nerevar L'interno di un'interno di un'interno Ora Yeah Perfect timing Suka Fortissimo Licker Suka Sta una favola I failed Mi aspettavo di shottarlo Invece A quanto pare Questi black leaker Sono forti Porca miseria Porca miseria Questa parte è tosta Ti fa sentire un figo da bambino Quando riesci a superare cose del genere Lo schermo dice Per aprire il cancello Inserire il disco Un disco M.O. Di verifica Ok Oh mamma mia Dove siamo Perfetto Ok Ok ... ... ... ... ... ... ... ... Questa area non la ricordo Cioè non ho memoria limpida Eh sì, uova Laboratorio P4 Allora la ricordo male Mi ricordavo che c'era la magnum Sono molto deluso Abbiamo una certa sovrabbondanza di granate Con Leon Ehm Ehm Sei sicuro zombie? Proprio sicuro? Sei proprio sicuri? Bellissima sta cosa comunque Mi sembra un così tale spreco Che non me la sento proprio Meglio farsi un giro Quali esperimenti sono stati fatti Qua giù? Eh Umbrella Umbrella Qui niente Diverse sostanze chimiche Ok Non ti incastrare Claire Non ti incastrare Claire Per carità è bellissimo il fondale Ma volevo che tu Vessi un'occhiata Tipo qua Cioè per caso Uno spray Niente Ok Solo Frammenti di povero zombie Mutilato da Claire Redfield Ah infatti La modifica alla super magnum Però io ricordavo Che c'era la magnum normale Per Claire Annette Tu hai matato William Non ti scolgo per questo Annette Per favore Aspettate Non è morto C'è un'occhiata del G-virus E questa volta Niente 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 Questo è il più significato Che c'è Che c'è Che c'è Che c'è Che c'è Sherry's in serious trouble William implanted her With his embryos There's no telling When they'll pupate And if that happens Then Sherry won't Won't What? William William You're alive You're alive Sta cosa Non la ricordavo affatto L'evoluzione del G-porca miseria William Col campione distrutto Esatto Sherry Tell me what I need to know How can I save Sherry? I have detailed information Everything you need to know To prepare the antidote Is right here Cioè Questo è canonico comunque No? Appunto Vaccino G Nome in codice Diavolo Certo Allora deve essere il virus Di Ah no L'antigene si chiama diavolo Ehm No Non credo che Leccare il campione Secondo me deve essere iniettato direttamente nelle vene Altrimenti forse è solo veleno Solo che in realtà William è morto E' questo il punto Ogni essere contagiato dal virus G si riprodurrà attraverso la fecondazione di un embrione all'interno di un altro essere vivente A meno che non sia rigettato dal ricevente L'embrione svolgerà un processo di invasione cellulare graduale Contagiando le cellule dell'ospite a livello molecolare Riscavandone Riscrivendone il DNA Il DNA Quando la metamorfosi sarà stata completata Il ricevente potrà continuare questo ciclo di autoriproduzione La durata del processo varierà da soggetto a soggetto Nei primi stadi dell'invasione cellulare è possibile interrompere l'evoluzione della metamorfosi Attraverso la somministrazione dell'antigene del vaccino G La seguente procedura ne definisce la sintesi Sì, diventano vettori del virus Ma Non diventano mostri Cioè, vettori del virus T Non lo so, potrebbe Stiamo facendo un po' i peli a una storia che non ne ha bisogno Però Allora La creazione del vaccino richiede il vaccino di base Questo può essere preparato dall'attivante VAM Innanzitutto mettere la cartuccia vuota nel VAM e attivare Dopo qualche minuto il processo verrà completato e il vaccino di base di colore bianco apparirà Automaticamente nella cartuccia Quindi controllare che la luce verde sia accesa Togliere la cartuccia e passare alla fase successiva Quando il vaccino di base sarà stato preparato Metterlo nella macchina di sintesi del vaccino situata nella stanza degli esperimenti su livello P4 La macchina è completamente automatica e l'utente deve solamente premere l'interruttore per l'avvio della sequenza A questo punto il programma A questo punto per il programma verrà eseguito automaticamente Quindi non bisogna fare un cazzo Pia la cosa Ficca lì e fai on Era così complicato? Ma com'è Annette? Ti ha minacciato di morte? La sequenza di self-destructo ha stato attivato Questa sequenza non può essere abortata Tutti i servizi procedono all'automobile alla stanza dell'automobile Ah no, ok Ma veramente? È tutto così veloce? Che... È dolcissima È dolcissima È dolcissima È dolcissima Anni Abbiamo Inizial Inizian Pah Willie La farena ci sarebbe stata molto bene nel remake perché avrebbe senso. La farena ci sarebbe stata molto bene. 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 Un'assicurazione. La farena ci sarebbe stata molto bene. 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 attivante per la sintesi del vaccino di base ok e qui non c'è niente quindi giusto quindi devo aspettare c'è scritto c'è scritto di aspettare qualche minuto no cioè c'è scritto aspetta qualche minuto e l'attivante bianco e attivare e attivare e Grazie a tutti. Sul muro. Ragazzi qua non c'è un cazzo. Scusa? Ma... Ok. Ok. E ora devo andare. Esatto. Mi faccio un favore. Ok. Ah non è qui. Il B4 è a ovest. Ah sì. E dove eravamo prima. Esatto. Esatto. Yep. Esatto. 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 Si chiama Damage Overtime Ti odio Si chiama Damage Ti fetta Ho talmente tante granate Però si la palestra avrebbe fatto un effetto migliore Per esempio Non molto Niente, sono super zombie Super zombie Incredibile E' questo? Sì Sì Allora Time to go Insomma io non devo Non devo tornare da Sherry Perché in teoria l'ha raccolta Leon, giusto? E' questo? Allora Io ho tutte le mie memory card PS1 Sì 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 Guardate che bello che è Sì 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 Ma lo prenderò comunque per sicurezza. Non siamo nel remake, Luke. Sei cambiato, Mike. Sono arrivato fino a qui senza mira automatica. Devo mantenere l'onore, almeno di questo. Bisogna giocare con i controlli brutti. 5 minuti fino alla detonazione. 5 minuti fino a qui. 5 minuti fino a qui. 5 minuti fino a qui. Cogli, ciclera! A ver Lasciami Lasciami aprire il menu Cazzo che ma Come fai a sopravvivere Di una cosa del genere Io faccio il tank adesso Tank Claire Ragazzi Tanking Claire I'm fine Sta capì Redfield Versus G-Virus Claire wins Quante volte da più giovane Sono rimasto qui a guardarlo Sciogliersi sempre di più E comunque respira Sperendido Come l'introduzione Vedo che Abbiamo qualche problema Di render Cap Gabriele Cap Madre C'è Proprio C'è 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 la Sherry è inconsciente ho l'antidota se lo darò a lei Claire, cosa sta succedendo? non ora vieni Sherry, si riuscite si riuscite, si riuscite è Claire? dove sono? it worked I have to find my brother you're right this is just the beginning my goddess protected you it will always be with you Claire oh, per fortuna è B-movie cringe come il remake bravissimi bravissimi oh, Claire it worked che capolavoro ragazzi che bomba è finito sì sì anche se in realtà il vero finale non è questo si sblocca facendo Leon B come si sblocca facendo con un minuto oh, È B-movie e allora sì Grazie. Grazie. Quanto durano meno i crediti in passato? Fatevi un paio di domande. Ora capirete perché non volevo utilizzare gli spray in Resinant Table. Thick Clare. Vedete? Tempo totale, numero salvataggi. Dov'è il numero degli spray? Non c'è mai stato, siete sicuri? Mai stato, non è possibile. Cioè chi ha influenza lo so per certo, non ho dubbi, ma il numero da qualche parte nella mia esperienza infantile con Resinant Evil so di averla avuta. Quindi può essere Resinant Evil 3, Cod Veronica, qualcosa. Leon B. Second scenario. Magnifico. Magnifico. Ragazzi, quindi, più che mai, alla prossima. Siete stati magnifici. Abbiamo finito. Non me lo aspettavo. Buon riposo, ragazzi. Grazie a tutti. Di doni, supporto, partecipazione. E tutto ciò che concerne la condivisione. Buon riposo. Alla prossima. Grazie a tutti. Si comincia con Leon B. E Leon B sarà interessante, perché penso di non averlo mai fatto neanche da piccolo. Nox. Ok. Grazie. G. Knight.